Allora, siamo qui con il presidente del CIP di Cubene per la Lombardia. Pianagelo Santelli. Pianagelo, sì, sì, lo stavo dicendo. Pianagelo Santelli. Insomma, grande fenomeno quello del CIP degli ultimi anni, grazie anche all'ultimo Olimpiadi che ha dato lustro e importanza alla manifestazione, però è fondamentale quello che voi fate a livello locale. Questa è una cosa che va detta. Voglio dire, tanto per farci una premessa, che forse nessuno lo sa, ma le Paralimpiadi a Rondra hanno avuto più pubblico delle Olimpiadi. Per quanto riguarda, anche perché la cultura che c'è in Inghilterra è nettamente superiore a quella che abbiamo noi in Italia. Noi logicamente sul territorio promuoviamo molto di più le attività promozionali, anche per avvicinare al maggior numero di ragazzi disabili alle attività sportive. E per noi questo è molto importante. Quali sono gli obiettivi che vi siete prefissi per quello che riguarda un anno importante per Meno Lombardia che è Expo? Allora noi come Expo stiamo preparando un portale, stiamo preparando un progetto, faremo un'integrazione con il CONI che lo ha programmato e realizzato la professoressa Cotellini e stiamo realizzando delle cittadelle dello sport dove porteremo tutte le discipline integrate, sport normodotattico e sport impisabili. in sette località della Lombardia che saranno Lovere, Salò, Como, Sondrio, Milano, Mantova e Angera. Queste sono le città dove noi faremo tutte le discipline e logicamente con il tema di Expo che è l'alimentazione porteremo i prodotti tipici locali, cercheremo di portare le persone che verranno a visitare Expo in queste cittadelle e poi faremo un'altra grossa promozione che è quella di portare gli istituti alberghieri a preparare il sabato sera una serata di gala con i prodotti tipici del posto, degli istituti in posto logicamente. Qual è il grande obiettivo per un Presidente come lei che si occupa di sport paralimpico? Il mio più grande obiettivo sarebbe quello di riuscire ad aumentare la percentuale di persone disabili che possono fare sport. In questo momento pensate che solamente il 5% delle persone disabili fanno attività sportiva. È un grosso impegno ed è molto difficile anche perché c'è uno grande muro da parte delle famiglie o da parte di loro stessi che quando hanno un incidente poi dopo si ritrovano ad avere veramente una situazione psicologica tale da volersi escludere, da volersi isolare e il nostro primo scopo è quello di riavvicinarli al mondo e a rimettere nella società. L'augurio per questo Natale è di portare il numero del 5% al 10%. E poi un'altra cosa importante è di riuscire a fare un bellissimo evento per Expo e far conoscere al mondo le attività sportive dei disabili a tutto il mondo che sarà presente. so che sembra che i cinesi abbiano già comprato un milione di biglietti perciò insomma noi i cinesi ci siamo.